Corriere, salò, 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 partigiano, partiti via! Mi seguo, ora, ora! Siamo che all'album il commattente volendo racconto la sua lotta partigiano, siamo chi o l'auberia e mappia mia? Sì, come nasce questo libro? Questo libro nasce dallakinsonide Miratano Pasquale Bambia di Salo, un impressione come a modire unico verso il genere Lui è un contadino, parte da Samus, subito dopo lo scopo della seconda guerra mondiale, combatte nel Montenegro, che poi va a finire in Francia. Da lì lo fa l'8 settembre, si sgueste della rivista di combattenti, combattenti anche per i fascisti, e diventa finalmente il combattente della libertà, diventa un partigiano. Questo libro ha uno dubbio e chiave di lettura, io ho un libro di storia che è come biografia, come è stato scritto questo volume? È stato difficile per me scrivere questo volume, perché prima di tutto mi sono dovuta appassionare, mi sono appassionata assieme a lui, perché lui, man mano di raccontare la sua storia, io imparavo da lui. E' strano dire che effettivamente si impara da un compagnino, però si impara soprattutto da che ha avuto, ha vissuto tante esperienze sulle proprie spalle. E lui infatti da partigiano mi ha insegnato tantissimo, poi a un piano effettivamente mi sono avvicinata alla resistenza, ho incolleggiato a studiare quel periodo, ho studiato dei parmaio, ho letto degli articoli, ho comprato e quindi ho provato proprio a indirizionata su quel periodo. E' in particolare il significato della partigianeria, che è il partigiano in pratica, è colui che finisce di essere neutrale, che prende parte, che antecipa in una lotta. L'intenzione di Pasquale è stata proprio quella, non di far parte di un colore politico, di mettersi addosso un colore politico, perché a lui non importa, continuo a riparirlo tutt'oggi, perché ancora vivo, non interessa strumentalizzare la sua figura, né tantomeno partiggiare per questo partito piuttosto che per quell'altro. E per lui è stato importante, questo è stato il mio, come devo dire, il punto da cui sono partita, per lui è stato importante combattere per la sua patria, l'Italia, e soprattutto per la libertà, che è la parola, il light model, praticamente, nel diritto in libro. Una strana figura di partigiano, da un paese che compie di successo della resistenza nell'invento e morte, portendolo a un piccolo paesino da Samu. Sì, è strano, da Samu, Samu è un piccolo paesino, all'epoca in cui si spaventano i fatti che interessano Pasquale Brancatisano, che era un paese, delle tutte le calabrese, che viveva solo di agricoltura e pastolizia, era un paese veramente in cui non c'era neanche una scuola, c'era solo la scuola elementare, però non era frequentata dai bambini, e anche perché i bambini, tra cui la scuola Brancatisano, vivevano molto lontano dal paese, lui viveva in campagna con i suoi genitori e ha continuato a fare il contadino. Successivamente, all'età più o meno di 14 anni, lui è per ventura e ha iniziato a capire che c'era qualcosa che non andava nel mondo. In quel preciso momento, lui ha capito che il fascismo, il pedio fascista, di cui ci sono anche delle presenze, e appunto di vista delle leggi fasciste, che hanno avuto delle ripercussioni sul stesso paese, sulla sua stessa famiglia. Per esempio, no, non è andato a dire lui, morevamo di fame, morevamo di fame, perché effettivamente si deve fare la povertà che è assoluta, oltre alla povertà, oltre alle tasse che si dovevano pagare, e tante altre cose, lui si rese conto che c'era da fare qualcosa per liberarsi a questo gioco, e l'unica cosa da fare era agire, appunto, prendere un paese.